In questo mondo di eroi Ronaldo, un fenomeno da studiare per tutti Un fenomeno come calciatore, un fenomeno social, un fenomeno business Un fenomeno che tutti adesso sogneranno di fermare quando scende in campo Ma come dice lui stesso I sogni non sono quelli che vedi quando dormi Sono quelli che non ti fanno dormire In questo mondo di eroi